Nuova gestione dei rifiuti nella città di Torre del Greco. Dal primo maggio subentra la ditta velia. Una scelta necessaria dopo mesi e mesi di disservizi e neadempienze. Elevate infatti circa 260.000 euro di sanzioni per mancato spazzamento delle strade, mancata fornitura dei servizi di porta a porta nonché per mancato recupero di ingombranti abbandonati e sparsi in tutta la città. Ai microfoni di TV City l'assessore Cinzia Mirabella fa il punto della situazione auspicando un miglioramento del servizio e un clima più sereno tra i dipendenti e la nuova ditta. Dal primo maggio avremo il subentro della nuova ditta velia che abbiamo già avuto modo di incontrare, di elencare numerosi problemi che in questi mesi abbiamo affrontato con la precedente ditta Butol. Devo innanzitutto ringraziare la TV City perché ci permette di diffondere quelle che sono le informazioni alla città che molte volte vengono travisate e vengono travisate dando poi una serie di conseguenze spiacevoli. C'è un passaggio di cantiere quindi le risorse impiegate sono le stesse riguardo il personale e noi ci auguriamo che quello che a cambiare sia il clima, l'aria e il servizio da fornire perché purtroppo continuiamo ad osservare, a verificare, a multare una serie di situazioni alquanto spiacevoli. Si punta sempre il dito verso la classe politica, si punta il dito verso l'amministrazione ma bisogna sempre ricordare che c'è sempre da ascoltare le due campane, c'è una parte di cittadini che fa il proprio dovere, che differenzia, fa il porta a porta ma c'è altrettanto una parte di cittadini che continua però a non fare il porta a porta. Cosa cambierà con la nuova ditta? Sicuramente la gestione. Negli ultimi tempi il clima era abbastanza teso, noi abbiamo più volte avuto la mentele da parte dei dipendenti del mancato pagamento degli stipendi quindi è ovvio che un dipendente non pagato abbia poi un atteggiamento restio verso la fornitura del servizio. Noi ci auguriamo che il clima tra i dipendenti e la ditta velia sia un clima sereno che possa far lavorare i lavoratori con tranquillità e con rispetto dei ruoli. Questo di conseguenza porterà ovviamente a un miglior servizio che oggi purtroppo non è presente in città. Dunque lei reputa la precedente gestione una gestione fallimentare? Non vorrei essere offensiva, non vorrei utilizzare dei termini non appropriati però sicuramente non ha reso felici né noi amministratori né i cittadini torresi. Adesso in questi giorni di transizione che porteranno al primo maggio la città purtroppo continuerà a restare sporca? Noi stiamo continuando a multare. Negli ultimi mesi sono state applicate sanzioni pari a 260.000 euro. È una somma cospicua, è una somma che viene fuori da una serie di inadempienze per il mancato spazzamento e anche per la chiusura della Santissima Trinità alle ore 14. Nei giorni scorsi la situazione in Litorania era disastrosa, un colpo d'occhio terribile considerato che l'amministrazione ha voluto anche l'apertura anticipata dei Lidi quest'anno. Sì, abbiamo assistito veramente a situazioni spiacevoli. Noi come organo politico abbiamo denunciato più volte questa situazione, è stata escalata anche senza nasconderla ai dirigenti e abbiamo anche chiesto un incontro alla prefettura perché certe cose non possono rimanere qui nell'ambito comunale perché sono situazioni dove a un certo punto occorrerebbe un controllo uno a uno. Nel senso che per ogni cittadino ci vorrebbe un vigile, ci vorrebbe un organo preposto a controllare. Sono fenomeni che si sviluppano soprattutto nella periferia che è in abbandono. Io lo denuncio continuamente ogni giorno e questo avviene in orari spesso notturni, in orari dove non c'è la presenza né del cittadino che magari spesso ci aiuta, collabora con noi inviandoci filmati, inviandoci foto. È ovvio che queste foto però se non hanno una ripresa della targa o una ripresa di quello che accade diventa difficoltoso poi multare. Però diciamo ci stanno aiutando, ci stanno aiutando perché vanno a superire quella che è la mancanza magari di un servizio di vigilanza continua. Invece per quanto riguarda le modalità di conferimento dei rifiuti, cambierà qualcosa? No, al momento non cambia nulla. Anche se stiamo valutando, qualora dovessimo trovarci con la ditta velia ancora in una situazione di sofferenza, stiamo valutando eventuali migliorie, sempre nel rispetto ovviamente del contratto perché ricordo a tutti quanti noi che ci sono dei contratti da rispettare che non possono essere modificati perché fanno parte ovviamente di una gara a cui ha partecipato la ditta Buttle e poi oggi subentrata velia. Quindi possono essere modificati ma in una percentuale minima che è del 10%. C'è dunque ancora tanto da fare il suo appello alla cittadinanza? Il mio appello è sempre lo stesso, quello di rispettare gli orari di conferimento e di rispettare anche la differenziazione del materiale che viene depositato. Il cumulo non può essere fatto, ognuno deve depositare nel porta a porta sotto l'uscio di casa. Nel momento in cui vengono a mischiarsi diverse buste di diverso contenuto diventa cumulo e la ditta non lo preleva. Quindi prego i cittadini di rispettare quelle che sono le regole basi. Grazie a tutti.